La paura è un dono che il Signore ci ha fatto. Allontana dai pericoli, dalla tentazione. Non è la ragione, ma la fede che ci aiuta a tenere a bada i nostri mostri. Chi sei tu davvero? Meno sei di questa storia del maggior, non finirà mai. La paura è un dono che è tutta. Grazie a tutti.